Gravino questo no, non viene gravino, non viene gravina, viene sul vice un altro hanno detto, ma sì perché ieri avevano annunciato che veniva gravina e il vice e l'altro sarebbero questi due, sono questi, e lì in mezzo deve essere quello di Lega secondo me, e il vice presidente, i ragazzi sono quelli dell'AIC, non ho capito, sono venuti a fare il funerale al Modesto. Ciao ragazzi! C'è anche gravina. Ma il signor Gravina non ha avuto le palle perché era modo da rappresentare tutti il suo piano. Buongiorno a tutti! Ma che finita di niente, avete proprio i maroni, complimenti! Ci dobbiamo i maroni, c'è bravo e altro! Ti faccio vedere allora, ti faccio vedere, venga qua a parlare, buffone! E' appena arrivato, mi stiamo andando con i regni, stiamo andando, tutto nella squadra. Purtiamo dopo, non ha fatto bene. Comunque dai, hai capito? Ma che c'è la mia vita? 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 Ok. L'ultimo può chiudere perché non entrino negli anni? No, 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 no! E' bagulare! E' ecco! E' sempre questo. Perfetto, va bene, ciao! da Firenze su Milano da Firenze alle 16.30 che ho grazie 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 Possono fare delle interviste? Dovete vergognarvi, mandate una mano ad andare nella buca! Andate a Roma! Caroni! Andate a Roma! Dovete pagare il Modena! Caprialla! Grazie a tutti!